amici e amiche di Ultrapop bentornati eh io sono Alessio come sempre sarò il vostro traghettatore nella parte scientifica eh ieri abbiamo parlato di natura di dinosauri oggi abbiamo cercato di esplorare eh i misteri grazie agli amici del CICAP non potevo eh non inserire anch'io un panel eh che riguardasse il mondo dello spazio abbiamo appunto eh abbiamo iniziato il nostro festival con Samantha Cristoforetti e quindi dovevamo per forza iniziare e continuare a parlare di spazio ma uno spazio un pochino più più tecnico quindi per me è un onore e un orgoglio eh presentarvi l'ospite di oggi che è il professor Battiston. Ciao Roberto. Buonasera a tutti quanti ciao a tutti. Ciao Roberto ciao. Allora per me eh mi dilungo sempre su questa cosa ogni volta eh che che vedo le tue conferenze io sono estasiato dalla tua capacità di eh di far spiegare le le cose più più difficili in un modo molto 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 semplice e e di fatti prima ci hai ben specificato in in sala regia eh quale pubblico abbiamo avanti? Abbiamo eh un pubblico generalista sì ok molto molto curioso ovviamente non abbiamo tanti fisici sperimentali eh quali sei quali sei tu però comunque eh un pubblico che sicuramente accoglie tutte le le nostre possibilità di di domande e curiosità quindi le frontiere dello spazio sono 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 aperte con te. Perfetto. Allora partiamo. Allora partiamo. Allora eh intanto giusto un piccolo excursus su su chi sei allora eh fisico sperimentale eh mi preme sempre prendere il il tuo libro perché veramente fare spazio perché soprattutto c'è nella parte nella quarta di copertina la tua eh biografia che è sempre difficile da ricordare per per tutte le cose che hai fatto eh nella tua carriera eh presidente ovviamente dell'asi dell'agenzia speziale italiana per più di otto anni fisico quattro anni scusa scusami eh specializzato nel campo della fisica fondamentale delle particelle elementare uno dei maggiori esperti di raggi cosmici. Allora prima domanda proprio così a bruciapelo che cosa rappresenta per te lo spazio e che cosa rappresenta per te appunto questa meravigliosa materia che la che la fisica. Lo spazio rappresenta un ambito senza confini e chi è che non non sogna di potersi muovere poter esplorare poter cercare curiosare eh senza avere un problema di limiti e lo spazio senza limiti per sua natura poi diciamo facciamo fatica magari ad arrivarci facciamo fatica magari a starci per molto tempo ma lui di suo è accogliente in un modo infinito perché c'è tanto spazio nello spazio per definizione e ci sono tante cose belle da fare dallo spazio e guardando lontano eh ai confini che non ci sono. Appunto tu mi parli di confini però questa corsa allo spazio no? Eh ovviamente non è iniziata non è iniziata oggi è iniziata più di cinquant'anni fa allora cinquant'anni fa ovviamente c'erano diverse eh accezioni che era quasi una corsa politica che poi ci ha portato a un'innovazione tecnologica per poter fare il primo passo sulla luna eh l'attivazione della ISS e tanto tanto altro ancora lo spazio è sempre stato là ma sembra veramente adesso il nostro punto più presente giusto? Ma ci sono un po' di ragioni per questo perché siamo passati nel corso di mezzo secolo poco di più dallo spazio come un po' chi salta più in alto chi salta più in lungo chi è più forte chi è più competente la sfida della space race chi ci arriva per primo no? Che è tutta un elemento di di politico tecnologico anche un po' economico evidentemente all'ingresso nello spazio di attori veramente economici per carità c'erano anche prima eh perché tutte le antenne paraboliche che vediamo sui nostri terrazzi sono uno spazio delle uno un'economia dello spazio ciascuno paga una certa quantità di denaro al mese e in cambio ha il segnale televisivo di centinaia di satelliti quello già di canali televisivi quello già è un modo di fare business sullo spazio c'è chi si organizza per mettere in orbita i satelliti e in cambio ha poi gli affitti mensili delle linee che affitta per la trasmissione però oggi in questi ultimi dieci anni si è iniziata a muovere un'economia più profonda e più ampia più variegata anche nelle varie applicazioni che va per esempio da tutti i servizi che sono legati alla navigazione satellitare non so quanti di voi si rendono conto guardando google map sul proprio telefono portatile che stanno interrogando di fatto dei satelliti posti a circa 26 mila chilometri di altezza sopra le proprie teste e che danno tramite dei segnali radio e l'informazione al nostro telefono di dove si trova esattamente entro meno di un metro ecco quando io vedo il traffico le strade i percorsi che devo seguire le raccomandazioni su dove posso su quanto ci posso impiegare raggiungere un obiettivo sto interpretando grazie al software del telefono e alcuni server in giro per il mondo l'informazione che mi sta venendo trasferita in quell'istante dai satelliti sopra le mie teste si chiamano gps che è un nome che tutti quanti conosciamo ma da 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 ieri si chiamano già galileo che il nuovo sistema di 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 geolocalizzazione e di navigazione europea un grandissimo risultato della dell'unione europea sì e questo hai fatto benissimo a diciamo a sottolinearlo perché uno pensa alle scoperte nel campo tecnologico soprattutto nel campo spaziale come soltanto un qualcosa che sta al di fuori del nostro pianeta confinato nelle tute degli astronauti o nei razzi che vanno sulla luna o su marte e tu è giustamente hai voluto sottolineare l'importanza di questa ricerca l'importanza della tecnologia che ovviamente sta tutto intorno al nostro pianeta giusto assolutamente e poi ricordiamoci una cosa che è veramente straordinariamente importante lo spazio è un punto di vista diverso dal solito in cui ci si può andare in pochi adesso sempre di più con gli occhi dei satelliti pochi uomini tanti robot ma è un punto di vista unico e quando uno cambia punto di vista i problemi si possono anche risolvere in modo più facile non si riescono a capire molte più cose molto spesso gli errori si fanno quando una visuale ristretta quando una visuale larga come lo spazio ci fornisce uno capisce molte più cose per esempio ormai il dato satellitare di osservazione del nostro pianeta è abbondantissimo vi porto una cosa che molti forse non si rendono conto si è sempre pensato i satelliti che osservano la terra i satelliti spia james bond no tutti tutta la storia dei james bond sono satelliti sempre più potenti che vedono sempre più cose più piccole fino a chi vanno a scovare anche in camera da letto però questi satelliti fanno una cosa sola cercano il nemico di james bond cercano james bond da parte dei suoi nemici non riescono a vedere l'intera mappa del territorio perché sono da sono uno solo sono pochi c'è chi diceva che i terroristi in afghanistan per decidere quando uscire dalle proprie grotte guardavano l'orologio perché sapevano quando passavano i pochi satelliti spia degli americani potevano sapere che nella prossima mezz'ora non c'è nessuno nessuno e quindi diciamo potevano o usama bin laden poteva uscire fare le cose doveva fare poi tornasse a nascondersi c'è un fondo di verità in questa perché finché sono pochi satelliti non sono quasi mai sul posto giusto quando tu vuoi però un gruppo di ragazzi californiani dieci anni fa hanno fatto un ragionamento che a posteriore è molto semplice un po come bill gates e steve jobs fecero sui computer ma perché non facciamo dei satelliti grandi come una scatola da scarpe con dentro abbastanza elettronica e macchine fotografiche da poter fare quello che deve fare una macchina fotografica a 400 giorni di altezza fotografare delle buone fotografie di buona precisione mandarle giù e soprattutto metterne centinaia di queste macchine fotografiche con le proprie antenne che si possono muovere in modo coordinato detto fatto hanno fondato una ditta che si chiama planet labs che ha raggiunto oggi il valore di quasi un miliardo di dollari quindi l'idea non era poi così male se uno di questi unicorni questi unicorni che sono le ditte che nascono rapidissime a fronte di una rivoluzione di mercato un po come il google dei tempi del dot com ecco qui abbiamo gli unicorn space x planet lab che hanno raggiunto valori economici altissimi in tempi molto brevi a dimostrazione di un'economia che sta crescendo rapidamente cosa si fa con questi satelliti hanno messo in orbita un centinaio uno dietro all'altro e quindi passano sullo stesso posto ogni minuto circa perché per fare un giro della terra ci vogliono 90 minuti a quell'orbita lì ne abbiamo messo un centinaio quindi ogni minuto ne passa sulla testa uno intanto la terra gira su se stessa risultato di questo che in ogni giorno ogni giorno si fa una fotografia praticamente di ogni metro quadro della terra in tutti i metri quadri possibili quindi anche sul mare anche sulle isole anche sul polo nord sul polo sud sopra casa tua sulla casa mia e quindi una volta al giorno è monitorata tutta la terra questo ha cambiato totalmente il tipo di informazione che noi possiamo ottenere perché guardando le cose a un'ora fissa tutti i giorni alla stessa ora possiamo capire quante automobili ci sono nel parcheggio della catena di ristoranti e che fanno la carne o piuttosto la bistecca o il pesce buono e quindi capire se ce n'è qualcuno in cui magari non ci va nessuno o se c'è una catena che sta andando male ha un valore economico enorme si può fare agricoltura di precisione sapere dove è secco dove invece l'acqua è abbondante dove sono le zone meno fertili le zone più fertili e i contadini pagano pochi euro per avere un'app in tasca che gli dice giorno per giorno settimana per settimana dove seminare dove concimare perché si possono avere le indicazioni dal colore della superficie del proprio campo perché ogni singolo campo viene osservato e potrei continuare per delle ore per dirti quante sono le applicazioni di un'informazione così dettagliata tra l'altro un archivio praticamente in tempo reale 365 giorni l'anno che non smette mai di creare documentazione e creare appunto storico in questo caso e poi naturalmente e se ti dessi questo articolo e questo archivio e te lo mettessi su un libro ogni giorno produrrei migliaia migliaia di pagine inguardabile ma abbiamo il computer e al cui tu spieghi i computer non sono tanto bravi nel riconoscere le cose sono però te codificano ma soprattutto vedono le cambiamenti ogni pixel di questa miliardi di pixel raccolti miliardi di miliardi ogni giorno dice il computer per cortesia tutti i conti più solo su quelli che sono cambiati da ieri a questo punto vengono fuori pochissime cose che sono quelle dotate di significato e con opportuni algoritmi ti mettono sul tavolo quelle poche decine o centinaia di informazioni che sono importanti e che hanno un valore economico ti do un esempio che mi ha molto incuriosito avete presente nel mar della cina la questione famosa degli atolli che vengono strutturati con cemento armato fatto vari port dei cinesi per conquistare queste postazioni e tutti li a guardare quei satelliti spia per capire quanto lungo quanto è largo quante navi ci vanno e vi dicendo bene da quando c'è planet lab si sono accorti che a fronte degli atolli cinesi costruiti strutturati più grandi gli eternaviti senza che nessuno se ne accorgesse avevano fatto le stesse cose su piccolissimi atolli che tanto era di interesse secondario perché non era la cina ma era solamente il vietnam stavano facendo solamente la stessa cosa e il computer si era accorto perché guardando i pixel cambiare toh ma loro fanno la stessa cosa dei cinesi no è incredibile questa cosa possiamo parlarne veramente per ore però tu mi hai accennato a un paio di volte alcune parole e te ne voglio appunto evidenziare mi ha parlato di economia non so quante persone 15 anni fa potevano magari sì 15 anni fa già potevano scommettere sulla space economy cioè quanto sta cambiando le sorti diciamo appunto del nostro pianeta cioè perché soprattutto si inizia a investire così tanto nello spazio c'è questa risposta veramente importante guarda la risposta te la potrei formulare ma sai come queste risposte che si guardano nel futuro ci vediamo poi tra dieci anni diceva avevi torto quel giorno con lega nerd detto delle stupidaggi ma ormai è passata ma in questi casi se possiamo sempre meglio guardarsi indietro prima di guardare davanti nel 2000 e 2000 tu eri vivo io ero vivo siamo un po diversi di età ma insomma ci entrambi ci possiamo ricordare della famosa delle bolle della dot com partivano no tutti valori economici pazzeschi poi qualcuno cascava alcuni esplodevano altri andavano avanti è successo di tutto cosa gli ingredienti quali erano la rete che diventava disponibile i computer portatili che diventavano disponibili e l'informazione che correva da tutte le parti con tutte le esagerazioni del caso no perché sono è successo di tutto però abbiamo google amazon facebook e via dicendo questi enormi enormi monopoli purtroppo ma enormi servizi che ci hanno cambiato il mondo sono figli di quella roba lì guardate che oggi sta accadendo la stessa cosa se io penso a Elon Musk che sta monopolizzando i lanciatori con la tecnologia fantastica riatterrano smart tutto quello che vuoi però sta raggiungendo una capitalizzazione sembra che andrà in borsa con 90 miliardi o 70 miliardi di dollari una singola industria che capitalizza una roba che neanche le industrie delle automobili ancora un po riescono a raggiungere esatto e con quel tra le tante cose che fa sta costruendo una rete satellitare starlink e arriverà a 27 mila satelliti fornendo internet e telecomunicazioni su tutto il mondo facendo campo a una sua unica alla stessa industria o un'industria diciamo che fa capo alla stessa persona allo stesso gruppo di persone quindi stanno nascendo oggi gli stessi monopoli purtroppo di quelli che sono nati nelle telecomunicazioni nei social oppure nei servizi informatici della rete indispensabili tra l'altro adesso che poi diventano indispensabili perché vi assicuro voi non vedete conto forse di quanti fornitori di banda di telecomunicazione internet telefonica televisiva stanno letteralmente smontando le antenne che lui mette in commercio per guardare come sono fatte perché la tecnologia che sta portando è estremamente aggressiva in qualità e in prezzo e probabilmente sbaraglierà tutta una serie di situazioni diciamo di altra generazione e diventerà un riferimento per moltissime persone allora tutte le volte che noi vediamo questo tipo di meccanismi in atto che sono molto simili a quelli che succedessero vent'anni fa nelle dot com e beh anche qui avremo qualcuno che fallisce ma ne avremo qualcuna che diventerà il pilastro dell'economia dello spazio e allora cominciamo a credere quando viene detto che sarà un'economia basata sui dati piuttosto che sui pezzi di ferro piuttosto che sui lanciatori satelliti quelli servono per fare le infrastrutture ma poi il grosso del valore economico è il valore che dicevo prima il pixel che cambia da cui trai un beneficio economico strategico civile militare quello che tu vuoi e fai economia ricordiamoci di questa giornata il il 23 di marzo sicuramente dovremmo andare a ritroso perché effettivamente è una riflessione più che giusta e mi hai anticipato a questo punto una domanda io ovviamente ho fatto una scaletta molto lunga però dato che abbiamo parlato di lo mas che voglio anticipare una cosa cioè nel senso che la potenza dei privati in questo caso sta velocizzando anche il il fatto di arrivare appunto al di là su marte o d'altro cioè costruire delle tecnologie molto all'avanguardia però questa tecnologia effettivamente sta in mano a un paio di personaggi adesso a mas che poi c'è anche bezos comunque con questo è un da una parte un grande vantaggio perché nel momento che esplode un falcon 9 sono sono soldi sono soldi privati non sono soldi pubblici però dall'altro potrebbe rappresentare un punto a sfavore il fatto che tutta questa grande tecnologia così esplosiva sta in mano a poche persone ma guarda una riflessione è la domanda di sempre perché noi abbiamo visto facebook e abbiamo visto gli effetti sulle elezioni americane e forse non solo quindi tutte le volte che anche con le migliori intenzioni mettiamo in mano di pochissimi individui una una delle risorse enormi in questo caso veramente quasi limitate e sì mentre le cose saranno bene tutti quanti siamo contenti che ne abbiamo un beneficio non secondario quando poi i nostri dati vengono usati per capire cosa voti tu e cosa voto io come influenzare te come influenzare me e beh nasce un problema quindi è un po al solito discorso stiamo producendo degli strumenti sofisticatissimi dei coltelli affilatissimi ma che hanno due lame una lama in cui ti tagli la torta e l'altra in cui ci fai arachiri come sempre nella tecnologia e quindi è chiaro che guarda ma pensiamo anche anche google ricordatevi il motto di google don't be evil non essere diabolico deve essere tra virgolette buono insomma il termine inglese opportunamente tradotto e poi vediamo che google però ha un elemento commerciale tale che sta facendo strage di tutti gli altri browser che sta facendo strage di tutti tutti i tipi di commercio di un certo tipo che può cambiando un ordine di selezione delle pubblicità a mettere in fallimento le persone le persone che può fare può a diciamo rende visibili e ricorda per sempre anche in notizie false cioè voglio dire c'è tutto il bene e tutto il male e probabilmente anche l'iniziativa diciamo rivoluzionaria di chi ha fondato questa è una impresa come google che è stata veramente straordinariamente importante passati 20 anni diventa un'impresa economica magari in cui i fondatori passano la mano si mettono in moto altri meccanismi diciamo tipici delle multinazionali che fanno dei valori positivi tecnologia di capacità di efficienza di affidabilità li fan diventare però il nuovo se vogliamo possiamo dire un nuovo dominio una nuova forma di oppressione il termine pesante perché ma c'è questo elemento nascosto tutte le volte che c'è un monopolio prima o poi viene la galla gli stati sapranno gestire delle delle persone o piccoli gruppi di persone che hanno da soli l'equivalente del bilancio annuale di grandi stati cioè riesce uno stato a trattare con delle persone che hanno un potere economico concentrato sono domande enormi queste e credo diciamola così quando io vedo che la commissione che la comunità europea a cui l'italia appartiene evidentemente riesce a mettere in atto delle azioni di contenimento delle super multe o dei ragionamenti per portare anche a pagare le tasse queste super organizzazioni così utili ma anche potenti beh io penso che non sia una cattiva idea che i che esista un super stato di taglia adeguata da poter tenere sotto controllo qualche cosa che deve rimanere un servizio e non deve diventare un dominio di pochissimi e poi aggiungerei un'altra cosa adesso da più da da più nerd e più collezionista no io adesso mask è un grande appassionato di spazio è anche un tecnico come tu ci hai raccontato su su altri su altre sedi sempre quasi su lega nerd quindi lui effettivamente si sporca le mani alcune volte da ingegnere per trovare il mood giusto per per una scintilla però non si deve cioè la passione deve rimanere sempre tale un giorno che mi sono stufato di tutta sta baracca voglio andare a a piantare alberi nel deserto del Sahara e praticamente noi rimaniamo con una tecnologia ma ovviamente ci saranno non è che chiuderà la sua la sua azienda però insomma io una una riflessione su questo me la faccio cioè è un uomo singolo con in mano la possibilità di andare su Marte si ma la su questo guarda ognuno di questi space barons come li chiamano sono 45 persone al mondo non di più che hanno questa che che non vengono dal settore spaziale nessuno vengono tutti quanti dal settore informatico digitale hanno fatto una montagna di soldi evidentemente poi ci sono messi a investirli in questa direzione sullo spazio con motivazioni diverse ma io sono convinto profondamente motivati dal bambino che in loro cioè perché lo spazio perché Marte che cosa vuol dire vado su Marte non per morire di vecchiaia ma sembra una battuta che fai con i tuoi amici in Braghe Corte quando stai giocando con le palline ma è questo è letteralmente questo che sta ancora oggi motivando maschera i suoi fedelissimi collaboratori ora e posso dirti questo che fino che ma continuerà a puntare a questo siamo tranquilli perché è un treno in corsa che sta cambiando il mondo diciamo per un per obiettivi tutto sommato non dannosi perché andare su Marte è comunque di passi avanti guarda le sue caffettiere venne esplode una alla settimana e tutti contenti a guardare il fuoco d'artificio cioè è una cosa davvero da mettere su di vidi storia de bello gallico venni vidi i vici Elon Musk brucio brucio e parto cioè ci vorrà qualcuno che racconta questa storia il diario non lo fa però con internet il diario di Musk c'è già non occorre neanche salto finché fa quel gioco lì lo fa nell'interesse dell'umanità quando andasse a piantare alberi nell'isola della Papuasia perdiamo tutti quindi faccia suo mestiere ce l'hanno dato così vada al massimo che lascerà sicuramente finché tira così grandi risultati diciamo per tutti noi alla fin dei conti basta saperli poi intercettare opportunamente certo per tutto il pubblico che stanno facendo veramente decine e decine di domande interessantissime cerco di chiudere la mia piccola scaletta perché poi andiamo le domande veramente del di voi ragazzi per tornare un pochino lo spazio ma più lo spazio quello che tu studi no cioè il mondo della fisica si è stato intercettato appunto anche nel mondo del cinema e dopo l'esperienza della dell'intervista che abbiamo fatto qui su Lega Nerd mi sono voluto documentare mi sono letto il libro di Kip Thorne che è veramente questo lo consiglio tantissimo perché è come il libro di Roberto fare spazio ci sono alcuni personaggi che no però vorrei far capire che ci sono dei personaggi come voi che in qualche modo riescono a divulgare talmente in modo semplice che veramente le cose più impossibili si riescono a capire e c'è un bellissimo pezzo quando Kip Thorne praticamente mette le mani avvantissima provate a leggere anche le cose più difficili se non le capite è colpa mia cioè lui l'ha scritto proprio nella sua introduzione quindi è per me è meravigliosa questa cosa dico questo perché mi riaggancio a interstellar a un viaggio interstellare quanto la fisica sta lavorando sulla possibilità di arrivare oltre il nostro sistema solare quindi il problema lo sappiamo il problema sono i propulsori giusto nel senso arrivare il problema il problema purtroppo è proprio la fisica il buon Einstein ci ha lasciato due tre cose importanti magari fossero due tre sono due tre mila ma diciamo tra cui il fatto che la velocità massima raggiungibile è la velocità della luce esatto e già questa è una prima rognetta perché mentre a terra con la velocità della luce ci fai di tutto perché puoi giocare diciamo con il tuo giochino elettronico ormai interattivo da un a capo all'alto della terra ormai si sono fatti dei passi avanti notevolissimi e quando viaggi invece lo spazio è così grande che la velocità della luce stessa fa fatica a raggiungere i bordi della nostra galassia ci mette centinaia di migliaia di anni la stella più vicina ci mette 4 anni virgola 2 che per noi lumaconi quanto siamo con i nostri voyager con i nostri shuttle ci metteremo 886 mila di anni a quella velocità alla velocità massima e voglio dire ai ragazzi anche più paziente lettore di 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 fantascienza dopo un noia stare su un'astronave per 86 mila anni e per cui finito qui il discorso è finito possiamo al massimo andare su marte in sei mesi e su e raggiungere i confini del sistema solare che con con il voyage di 35 anni cosa che abbiamo fatto il fatto che tu poni un problema a un fisico e a un matematico uno scienziato e un problema insolubile di un problema di fisica difficile e lo vedi illuminarsi come se fosse una lampada al neon cioè subito incomincia a pensare le cose più strane e quindi il problema di dire ma siamo veramente bloccati su questo nostro sistema solare dai nostri corpaccioni perché Einstein un'altra cosa ci ha lasciato oltre che la velocità della luce è finita è che per prendere una roba che pesa che ha dimensioni macroscopiche pesa chili e accelerarla tanto 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 più ci avvicini alla velocità della luce più deve dargli un'energia spropositata ci sono dei filmati su internet in cui dici sì potremmo andare in effetti una parte all'altra della galassia in pochi anni ma dovremmo succhiarci l'energia della terra per i prossimi milioni di anni non ha senso non 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 ha un è un puramente un'equazione che però non può essere implementabile per cui la soluzione brillante che questi gruppi di scienziati gruppo di scienziati che fanno capo alla alla fondazione breakthrough la breakthrough foundation quella che sta proponendo anche dei premi nobel alternativi ai nobel no insomma è nota ormai per per questo tipo di iniziative in classiatore scientifico si sono fatti seguente ragionamento per andare veloci come la luce o quasi occorre avere dei oggetti molto leggeri molto compatti quanto molto ma ci sono fatti due conti che un oggetto di un grammo attaccato una vela solare di pochi metri quadri su cui sparo un raggio laser tosto non è impensabile ma bello tosto che per pochi minuti consuma la stessa energia dell'italia per pochi minuti e quindi in italia per pochi minuti si ferma grandi batterie nel deserto caricate per dei mesi e poi per pochi minuti giù a manetta a fare uscire questo laser che spinge può essere accelerato a 0 3 volte la velocità della luce in pochi minuti prima che arrivi a marte e quindi basta costruire dei satelliti sufficientemente piccoli e compatti ma con la microelettronica ci si riesce che ci abbiamo a bordo una macchina fotografica ci abbiamo una piccola memoria un piccolo cpu alcuni dio di laser per stabilizzarsi attaccarli a una vela solare che pesa pochi milligrammi perché fatta di materiali come il grafene che possono esistere un po difficili da strutturare in grandi dimensioni ma che si possono fare metterli in orbita come se fossero tanti soffioni sbatterci questo super laser iperpotente per tre minuti mandarne mille verso l'alfa centauri che è la stella più vicina sperando che uno arrivi dopo quanto tempo si cova un terzo della luce ci metterà il tre volte quattro anni e virgola due ci metterà quindici anni arrivato lì è programmato per per prendere una fotografia di alfa centauri a velocità relativistica voltarsi e rimandare indietro i pochi fotoni con l'immagine facendo il selfie più grande della storia dell'umanità evidentemente perché sarà a quattro anni luce di distanza dopo soli quattro anni arriva sulla terra quindi in diciannove anni hai fatto un'esplorazione di alfa centauri il satellite qua sul mio tavolo questa è la versione grande me l'hanno regalato quando ho fatto trovarli l'ultima volta fate questo qua piccolino 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 di un millimetro quadro e diciamo e l'elemento di base esiste già naturalmente non voglio illudere tutti voi che si fanno domani questo c'è due tre cose un po complicatine da risolvere vabbè si brucia tutto va tutto quanto in fumo le micrometeoriti qualche piccolo dettaglio ma l'idea stessa che ci si sia messi a fare questo conto e si sia iniziato a costruire questi pezzettini di oggetti perché non la si considera una cosa impossibile ma la si considera il prossimo modo di fare un salto significativo fuori al nostro sistema solare la trovo assolutamente fantastica no è fantastica soprattutto immagino per per voi fisici non riuscire non riuscirete mai a pensare altro che a rovellarvi tra 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 equazioni cioè non è un lavoro è una è è un è uno stile di vita per quanto è un gioco è un gioco è un gioco è un gioco ti assicuro ma tu giochi molto bene però Roberto ma giusto così per questo questa sorta di di grande fionda a questa grande velocità poi la dobbiamo anche far fermare in qualche modo oppure basta che va vedi vedi che ti stai incuriosendo eh sì in effetti l'ultima volta che ne parlavamo parlato e poi come freni perché nello spazio il casino non è accelerare è frenare non sai su cosa frenare e la risposta è sì in effetti hanno però hanno una domanda difficile si guarda però abbiamo siamo accorti che siccome alfa centauri è fatti da tre stelle ma probabilmente a qualche pianetino che gira attorno morale giocando arrivandoci con la linea giusta di 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 percorso e giocando sulla frena sullo freno gravitazionale di un pianeta che mi tira sull'altro posso frenare abbastanza e quindi bisogna far conto per capire come si fa mi hai fatto il curioso allora e invece qui tornando un pochino più sulla terra per quanto mi riguarda sto finendo le domande e prendo qualcosa dal pubblico perché veramente sono interessantissimi l'ultima conferenza che ho assistito al festival di scienze qua in Umbria mi parlavi anche di una di un bellissimo parallelismo cioè la natura in qualche modo è quasi superiore alle tecnologie o meglio molte volte le tecnologie che utilizziamo per andare appunto nello spazio si ispirano al mondo della natura e tu hai fatto bellissimi esempi su questo ancora ci stiamo ispirando ancora stiamo prendendo spunto dalla natura per poter per poter viaggiare e studiare oppure ci siamo fermati nel senso ok ma guardate mentre l'esempio della natura è sul volo no all'inizio si è pensato di da leonardo in poi di fare macchine ad ala battente per fare come gli uccelli che volano leonardo fa lì perché la tecnologia del momento non gli permette di avere materiali abbastanza leggeri e le forze dei no delle nostre braccia umane non sono sufficienti a operare alla battente e quindi fa lì ma si era ispirato la natura in modo estremamente raffinato e poi scoprimmo i right che l'ala rigida invece faceva meglio con un motore a bordo e via via e ora portiamo degli aerei che sono molto più grandi e potenti dei più grandi terodattili che siano mai esistiti no portiamo addirittura su un jumbo uno shuttle per riportarlo a casa e cose più incredibili carri armati camion cose pesantissime e lì abbiamo battuto la natura perché partendo da una roba tremebonda siamo arrivati via via delle cose fantastiche è sempre così con la natura e basta solo portare partire col piede giusto che cos'è che ci manca nello spazio per esempio una cosa che ci manca tantissimo è la riparabilità delle cose l'auto riparabilità delle cose questo vuole arrivare sulla terra tutto ciò che fabbrichiamo dai vestiti all'automobile al computer al cellulare tutto si rompe e abbiamo tutti esperienza che si rompe in tempi scala fortunatamente o meno molto più brevi della nostra vita umana quanti telefoni avete cambiato che avete rotti dieci quanti computer avete cambiato perché sono lenti obsoleti cinque quanti automobili cambiate nella nostra vita sei ed è sempre così ma non perché siete dei consumisti perché perché si rompono perché cambia la tecnologia perché diventano inefficaci quanti corpi avete cambiato nella nostra vita uno quante volte vi siete sbucciati un ginocchio che si è riparato parecchie qualche volta il braccio possibilmente non la testa ma comunque il nostro corpo ripara e combatte infiniti casi di malattie di difficoltà di rotture che si autoriparano bene noi non siamo capaci di fare le cose che si autoriparano la natura dalle piante gli animali noi stessi siamo un continuo autoriparazione una volta mi hanno spiegato che le nostre cellule sono colpite dai raggi cosmici che ci attraversano gli muoni e ne distruggono non so alcune al minuto ne abbiamo tante bene prima di buttarla via la cellula morta la cellula cerca automaticamente di autoripararsi addirittura il dna se si rompe uno dei due strand diciamo della dell'elica uno dei due si autoripara copiando l'altro cioè per per mandare in rottamazione una cellula occorre fargli un brutto male no proprio mandarla in tilt e non succede spesso quindi noi ripariamo non so se una due cinque cinquanta cellule al minuto continuamente ok noi siamo macchine che si autoriparano senza sosta non siamo capaci di fare né software né hardware che si autoripara senza sosta e per andare nello spazio vi ricordate parmitano quando stava rischiando di affogare in un mezzo bicchier d'acqua nello spazio in una passeggiata spaziale se lo raccontavo prima che accadesse tutti quanti giù a ridere stava per rimanere affogato in mezzo bicchier d'acqua che aveva perso la sua tuta mentre era al di fuori queste cose non devono poter succedere perché altrimenti delle cose molto complicate prima o poi qualcosa di storto alla grande ci va sempre e dobbiamo avere c'è un bel film passengers chi se lo ricorda e lì c'è tutti dormono e dura 150 anni il viaggio uno per sbaglio si ferma ma non perché hanno sbagliato il computer perché c'era un motivo no un casino una meteorita c'era un motivo molto serio di un danno molto serio uno si sveglia e poi nasce la storia quello lì ha disegnato una un'astronave che per 200 anni si occupava di tutto quello che serviva per garantire a 3.000 5.000 coloni di spostarsi da una stella all'altra ecco noi serve passengers comunque l'ultima conferenza che di cui avevi parlato su suonatura mi incuriosì tantissimo il fatto che appunto facevi dei parallelismi anche con gli animali la stessa coccinella alla tecnologia che noi abbiamo ovviamente riadattato in grande sui rover sbaglio ma 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 la coccinella che se non ci avevamo mai fatto caso ma quando apre la sua la sua la la sua il guscetto con le puntini rossi neri sul fondo rosso e sbroglia le ali che sono accartocciate come se fossero delle delle un foglio di carta spiegazzato quindi escono spiegazzate diventano perfettamente lisce vola torna giù ri a terra e le rimette dentro non siamo capaci di fare questo noi siamo capaci di piegare a mano le cose a terra mandarle su e aprirle quando funziona davvero ma di fare il sblop non siamo capaci non siamo capaci perché ci incasina sempre tutto questo era soltanto per per ritornare ultimissima mia domanda e poi andiamo verso il pubblico perché sicuramente gli ultimi quarto d'ora dobbiamo assolutamente rispondere tutto quanto allora riusciamo arrivare su marte perché fondamentalmente abbiamo il mezzo tecnico adesso se se sarà il nuovo il nuovo ragione di di Elon Musk o d'altro comunque probabilmente riusciremo ad arrivare su marte ti chiedo quali sono però al di là del del mezzo fisico che arriverà quali sono le problematiche che magari ancora stiamo studiando nell'arrivo di marte nell'arrivo su marte cioè la gravità lì ovviamente è tutto tutta un'altra storia rispetto alle passeggiate lunari e quindi quale strane è esatto e quali il problema il problema è l'energia marte è distante dalla terra di un cento quello che sono 150 chilometri ma tradotto in intensità della luce solare ne becca al 40 per cento e quindi un pannello che sulla terra fa faticosamente il famoso kilowatt per il famoso 20 per cento quindi se siamo bravi facciamo 200 metri 200 watt al metro quadro al massimo che si riesce a fare quando il sole picchia e lì diventa un centinaio anche forse di meno e questo è enormemente importante perché lì non abbiamo l'atmosfera per fare per esempio il combustione no non possiamo fare il motore a scoppio non c'è neanche i rocarburi per essere precisi l'unica energia che abbiamo tanta acqua tanto ghiaccio a poco ma l'acqua di sé non è un carburante se spezziamo idrogeno e ossigeno dalla ricombinazione facciamo l'energia di un carburante ma per spezzare idrogeno e ossigeno dell'acqua con l'energia del sole ce n'è poca tra tante la breve una volta sono stata una delle riunioni della nasa proprio per capire anzi di space x per capire come cavolo si fa a farlo sta venendo a colonia su marte il primo problema che venne a galla era non c'è energia sufficiente se poi viene un soffio di vento e fa le tempeste globali che durano sei mesi a parte il fastidio di non vedere più niente ma mettiamo che la gente sta chiusa nelle grotte nelle case nelle sue nelle sue stazioni spaziali nelle sue rifugi per sei mesi una bella palla ma comunque col covid siamo stati anche abituati a questo quindi possiamo anche metterlo forse in utilizzo magari magari no ma il problema è che scompare qualsiasi forma di energia perché il sole praticamente è inefficace e quindi c'è solamente un modo per fare queste cose o portarsi vagonate di caffettiere di mask piene di combustibile che mi sembra modo stupidissimo di fare lo prendi dalla terra casino anche pericoloso forse anche pericoloso oppure l'energia nucleare non c'è niente da fare una reattori nucleari diciamo di media potenza risolverebbero drasticamente questo problema perché l'energia nucleare si è fatta apposta per lo spazio perché è molto compatta ne hai una quantità enorme in pochi chili e puoi farci quello che nessun altro sistema riesce a fare quando manca l'energia l'energia nello spazio è essenziale su marte ce n'è poca c'è moltissima acqua c'è un terreno non coltivabile che hai visto the martian si ricorda che per far nascere le patate occorre la cacca dell'astronauta quindi diciamo è un processo chimico molto particolare perché adesso cacca su marte non ce n'è e quindi bisogna portarne in quantità altrimenti i famosi batteri e microorganismi che fanno crescere le patate ciao non riescono a far crescere le patate e quello è un secondo problema ma insomma la cacca in qualche modo si produce oppure sono i fertilizzanti e i batteri si possono moltiplicare e l'energia è veramente scarsa è un problema molto serio esatto ok allora iniziamo con qualche domanda questa è per te possiamo avere il professor battistone un'ora la settimana è poverino nel senso dobbiamo fare più festival a quello non c'è problema allora dunque non sarebbe più logico costruire impianti fotovoltaici in deserto per risparmiare a che credo che questo era il momento che stiamo parlando del del allora è questo sì esatto se non erro esiste un pianeta abitabile un'altra galassia un giorno sarà possibile arrivarci ma non solo esiste un pianeta abitabile un'altra galassia ne esistono una quantità nella nostra galassia perché andare lontani quando possiamo andare vicini sono irraggiungibili anche questi perché sono comunque molto lontani il concetto di abitabilità attenzione e si parla tanto delle terre gemelle quello che si sa fare fino adesso dire c'è una stella grande grosso modo come il sole intorno alla distanza grosso modo come la terra c'è un altro pianeta roccioso grosso modo a quella distanza lì quindi si deduce a questo punto che l'acqua se c'è può essere sarebbe liquida o ghiacciata in quantità analoghe a quelle terrestri ma non sappiamo ancora dire se c'è l'acqua cioè la nostra terra pensate a Marte Marte era pieno di acque i laghi di fiumi tre miliardi di anni fa ieri tre miliardi di anni fa li ha persi tutti perché il campo magnetico di Marte si è fermato e scomparso non certo ovviamente non c'è più che il suo magma interno evidentemente per qualche motivo non ha non sta più muovendosi o si è o si è o si è freddato non lo so bene e quindi conseguentemente l'atmosfera è stata erosa letteralmente erosa dal vento solare e conseguentemente scendendo la pressione atmosfera l'acqua se n'è andata punto perché l'acqua dalla casa sui nostri mari sta perché premuta giù duro dall'aria senza l'aria ciao acqua e e e quindi che cosa vuol dire che un pianeta poteva essere abitabile tre miliardi di anni fa ma oggi è un deserto rosso c'è molto ghiaccio nascosto sotto e forse forse nell'acqua liquida nelle profondità di Marte ci potrebbero chi lo sa essere ancora tracce di vita è l'obiettivo delle missioni marziane di andare a curiosare lì ma in superficie è stato bruciato diciamo dal vento solare c'è pochissima atmosfera e l'acqua non c'è più per cui quando vi dicono che c'è un pianeta solare in un'altra galassia o nella nostra prima di mettervi in viaggio assicuratevi che sia abitabile oggi e non tre miliardi di anni fa o fra tre miliardi di anni in altri termini prima o poi il problema ce lo porremo ma forse poi che prima anche se alfa centauri si è capito che ospita almeno un pianeta roccioso e quindi con questo famoso satellitino da un grammo chissà se non dico i nostri miei nipoti forse neanche i tuoi ma i nipoti dei nipoti di cui stiamo parlando chissà se un domani non potessero pensare di mandare verso alfa centauri pianeta tra vivete abitabile un po di dna da far sviluppare e poi via il pensiero può continuare chi lo sa non si sa mica cosa si può fare con questo tipo di situazione di conoscenza in continua evoluzione questo è il bello della scienza però è nel senso che il chissà e il chissà quindi non c'è mai nulla di di chiuso nel nelle vostre menti allora ultime due domande cosa ne pensa il professore delle prossime missioni della cina sulla luna non sarebbe meglio se tutte le nazioni partecipassero ad un unico programma invece di farsi concorrenza con due programmi e vallo dire a donald trump prima che arrivasse lui tutti quanti stiamo ragionando per fare questa roba qui che avete appena detto si discuteva anche dell'organizzazione strutturata perché gli americani volevano una cosa piramide con loro in testa naturalmente i cinese volevano invece una flottiglia di tante barche che andavano assieme all'obiettivo sono diversi di differenze culturali ma sedevano attorno tutti quanti allo stesso tavolo ragionando su come fare i passi intermedi per poi arrivato l'uragano trump li ha mandati a stendere loro non si sono fatti stendere e stanno andando per conto loro peccato perché lo spazio è un contesto in cui come la stazione spaziale ha dimostrato si può collaborare anche fra competitor o addirittura fra nemici cioè ancora oggi abbiamo gli embarghi applicati a terra sulla russia e gli astronauti russi americani che lavorano assieme di come un accordo da vent'anni sulla stazione spaziale internazionale quindi secondo me dovrebbe essere recuperata questa rapporto multilaterale globale nel rispetto delle differenze culturali e delle tensioni economiche che ci sono sempre meglio sedere a un tavolo e litigare piuttosto che spararsi le cannonate al di là di un muro senza vedersi giusto ultimissima domanda e mi scuso con tutto il pubblico ma veramente pensavamo che fosse più generalisti invece devo dire che sono veramente attenti molto curiosi domande super interessanti sono veramente contento di di ciò allora mi preoccupa che non abbia nominato l'inevitabile problema della radioattività cosmica che non permette di restare sulla stazione spaziale per più di sei mesi martedì un deserto senza vita proprio perché esposto le relazioni del vento solare allora la radiazione cosmica è fastidiosa sì noi non siamo disegnati per stare a esposti a quella radiazione vero altri esseri viventi lo sono abbiamo vari esempi di microorganismi ma neanche oggetti di mezzo millimetro che stanno tranquillamente nel vuoto e alla radiazione cosmica con pochi difetti si possono si può avviare in due modi alla questione della radiazione cosmica primo schermandosi con delle strutture magnetiche è complicato ma funziona funzionerebbe la seconda è trovare delle medicine letteralmente le medicine delle pillole che aumentando alcuni livelli di difesa del nostro organismo proprio nel rimpiazzare cellule danneggiate ci possano rendere più resistente alla radiazione quindi questa storia della radiazione è un problema sì ma non è un problema di quelli che a cui non si può immaginare di trovare una soluzione se il viaggio terra marte una strutturazione magnetica si può immaginare è molto costosa complicata ma non è impossibile una volta su marte sappiate che la l'atmosfera residua è comunque abbastanza spessa da ridurre il vento solare a valori molto bassi tenete conto che l'atmosfera sulla nostra testa è l'equivalente di tre metri di alluminio tre metri e mezzo di alluminio non lo vediamo ma è lì che ci protegge dalla radiazione cosmica c'è ce n'è molto di meno stiamo parlando di una frazione di percento quindi ce n'è molto di meno non è zero quindi in risposta finale chiaramente su marte uno ne prende di più ma se non ricordo male i valori su marte o sulla luna sono abbastanza confrontabili e diciamo non impediscono le emissioni magari non passa più tempo in grotta che sulla superficie ma insomma anche queste sono cose che si possono misurare in parte proteggerci poi il danno il danno da radiazione è un danno lento se tu sei esposto per sei mesi e torni a casa e sei protetti o vai in una casa matta in cui ti proteggi per altri sei mesi il tuo organismo si riorganizza elimina le cellule danneggiate e ti da questo punto di vita ti rimetti a nuovo e poi affrontare un altro periodo di più alta dose naturalmente non sto parlando della bomba di Hiroshima sto parlando di dose basse che tu accumuli in lunghi periodi bene guarda noi abbiamo praticamente siamo arrivati alla alla conclusione addirittura all'inizio c'era una piccolissima domanda che io ti vorrei far vedere perché questa praticamente dovrebbe essere risposta con altre dieci conferenze a che punto è la scienza sul tema materia oscura cioè questa non si capisce un non si capisce un benissimo risposta riassuntiva sia stato veramente veramente meraviglioso grazie per la risposta infatti subito bene roberto io veramente ti ringrazio spero che è stata una una bella chiacchierata il pubblico siamo stati più di 1800 persone a risposta sì 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 assolutamente siamo in vari canali quindi non solo su ultra pop ma anche su sullega nerd appunto quindi il festival sta andando alla stragrande e non so cosa dire tu veramente come sempre sei una una conferma tutto ciò che avevo detto prima e io il tuo libro lo metto veramente vicino e sono molto contento di metterli tutti e due vicini perché sono dei gran manuali per chietto che vuole comprare altro compri fare spazio di roberto battistone e anche quest'altro libro che effettivamente fa capire molto rispetto alla fisica interstellare quindi grazie veramente roberto grazie a voi continuate questa bellissima azione di divulgazione e divertimento con la scienza ok benissimo ok grazie mille grazie allora ragazzi veramente spero che vi è piaciuto questa questo panel e io sarei stato lì ancora avevo una paginata intere di di domande spero che vi sono piaciute le risposte del professore è stato veramente magico ricordiamo che ovviamente continuiamo ancora con ultra pop festival finiamo alle ventitré quindi rimanete ancora nei nostri canali sia su multiplayer movie player che lega nerd che di sapore allora andiamo a vedere il prossimo il prossimo panel eh ok andiamo dallo spazio eh alla magia perché ci piace anche eh spaziare su questa cosa quindi doppiatore di harry potter crescere eh dando voce alla magia con giuseppe grossi di movie player quindi ragazzi rimanete ancora qua cinque minuti e ritorniamo ancora in live ciao ragazzi